siamo proprio sul teatro sul palcoscenico del teatro stabile con giuseppe di pasquale regista di pandemia il teatro riparte dall'aquila con quest'ante prima nazionale pandemia insomma è un nome impegnativo si riparte appunto per merito di un teatro importante come il teatro stabile d'abruzzo e che presenta in prima nazionale questo pandemia che è una scrittura sul tema che abbiamo vissuto in quest'anno e mezzo con molta naturalmente fatica però come avviene sempre per il teatro c'è un gioco un gioco irridente un gioco ironico un gioco anche comico cinicamente e crudelmente comico sui meccanismi che una coppia una coppia particolare una coppia singolare che appunto interpretata da ninni bruschetta federica de benedittis vive in una sorta di luogo senza tempo perché tutto parte da un probabile 1920 e arriva ai nostri giorni e ogni scena è una sorta di declinazione di come questa pandemia si è avventata sulle persone su sugli uomini e non è detto che questo sia un come dire uno spaccato tragico e triste perché quello che abbiamo subito noi anche quest'anno è un po un meccanismo strano un meccanismo che ci ha fatto separare ci ha fatto emergere le crisi più profonde oppure anche gli amori più profondi quindi questo raccontiamo raccontiamo quello che la pandemia l'epidemia ha comportato per gli uomini e lo facciamo con con molto divertimento si ride si riflette sul tema si piange anche quindi il teatro riesce sempre a dare uno specchio di quello che noi siamo e per fortuna la pandemia la pandemia quella vera purtroppo quella che ci ha chiusi in casa e che ha creato un danno e dei disagi insomma al suo settore che chissà quando verranno colmati insomma per fortuna diciamo dal punto di vista fisico non siamo stati colpiti ma dal punto di vista del settore è stato un massacro un massacro non perché il teatro non riuscirà a risalire o a risorgere perché teatro è una finché ci sarà l'uomo il teatro esisterà io penso a tutti gli artisti che hanno smesso questo lavoro perché non potevano assolutamente sopravvivere non potevano come dire neanche pagarsi l'affitto pagarsi da mangiare perché i ristori non sono bastati sono decine decine se non centinaia di attori che hanno smesso di lavorare un anno e mezzo fa e questo è stato terribile questo è stato incredibile come penso anche ai teatri privati che non alcuni non ce la faranno proprio a risalire che poi il teatro è un indotto oltre agli attori costumisti truccatori gli scenografi i registi macchinisti insomma un carrozzone ma anche il ristorante definita un'impresa un'impresa è una vera e propria impresa gigante gigantesca enorme immensa dove praticamente ecco come diceva lei ci sono state già le prime vittime ci sono state le prime vittime 250 mila lavoratori dello spettacolo non so quanti ne conteremo dopo questa guerra perché di guerra si tratta non ci sono stati bombardamenti ma di guerra si tratta e l'indotto colpisce anche le filiere del settore che sono appunto come si diceva non solo sartorie le falegnamerie anche i ristoranti che già di loro erano chiusi e che comunque anche con noi lavorano insomma una catastrofe certo la speranza è quella che anche raccontiamo in questo testo in questo spettacolo la speranza di sempre una fiamma che continua ad ardere a bruciare e che non si spegne mai nel teatro questa fiamma è sempre viva e quindi basta riaccenderla come stiamo cercando di fare noi adesso e siamo certi che contaggerà di nuovo tutti ha visto l'aquila ha fatto una passeggiata o più che una passeggiata l'ho girata mi sono goduto naturalmente le meraviglie di questa città che si è stata ricostruita si sta ricostruendo nella sua totalità e estasiato la città così bella così ricca di arte di storia di cultura e fa piacere non solo lavorare a teatro ma lavorare a teatro all'aquila se ti senti confortato è come se stessi in una culla che ti ti protegge ecco questo di questo siamo molto contenti grazie anche perché è bello anche questa cosa che ci sia quest'anteprima dall'aquila che una città che sono 12 anni insomma a prescindere dal covide sta cercando di andare avanti e il teatro la cultura è uno dei veicoli migliori probabilmente lo è che lo sarà sempre grazie tante a voi teatro riparte all'aquila con uno spettacolo dal nome impegnativo pandemia che non è diciamo è un titolo nuovo messo dall'autore che è il nostro regista che è giuseppe di pasquale che lo ha diciamo che si è ispirato a un grande testo di ionesco che parla di una pandemia però di una pandemia molto 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 particolare e essendo diciamo un proveniente dal pensiero uno dei geni della teatro del novecento è profetico come sono tutti i grandi pensatori che hanno una geometria nel loro pensiero che li fa vedere oltre certo se non ci fosse stata questa questa pandemia forse questo testo sarebbe stato difficile da capire invece noi lo mettiamo in scena con un adattamento bellissimo fatto a due personaggi da un testo invece pieno di personaggi che diventa quindi anche un discorso sul teatro che noi interpretiamo tante coppie di uomini e donne che si trovano dentro a una situazione diciamo di disagio creata proprio dalla claustrofobia dello spazio esattamente quello che tutti quanti noi abbiamo vissuto il teatro federica ha vissuto una crisi imponente probabilmente ci vorranno anni per riprendersi come stato questo questo anno perché alla fine è stato molto difficile per tutti sicuramente ma non vedevamo l'ora di ripartire ci è sembrato già miracoloso il fatto di poter debuttare adesso maggio non vediamo l'ora di ripartire con la stagione prossima in giro per l'italia insomma pochi giorni fa ha letto una sua intervista diceva il teatro è vita e deve rinascere come può il teatro rinascere appunto dopo una crisi così imponente un buco mi permetto di dire insomma noi invece mi permetto di fidare un grande regista di teatro e di cinema che era Rainer Werner Passfinder che diceva che il teatro è in fin di vita ma lo è sempre stato quindi secondo me non non succederà nulla nel senso che il teatro è un senza fare usare paroloni il teatro è connaturato nell'uomo è come il gioco è l'unica cosa che non devi insegnare ai tuoi figli perché sanno già giocare fa parte di noi e recitare è vivere in una condizione diciamo di creatività quando intendendo diciamo la finzione nel senso latino per termine quindi di creazione questo non può finire finché esistono gli uomini non può finire e poi diciamo in barba a tutti i catastrofisti anche un po patetici che sentiamo nelle televisioni ormai cominciano ad avere poca importanza sull'opinione pubblica secondo me non succederà nulla a livello sociale perché invece questo danno che abbiamo subito ci riavvicinerà e sicuramente almeno in un primo momento le persone si vorranno più bene come è successo alla fine della guerra e poi ricominceranno a fare i cattivi come prima. Lei ha scritto un libro la cui prefazione è stata fatta da Franco Battiato da siciliano a siciliano come ha vissuto questa perdita che non è una perdita della Sicilia è una perdita dell'Italia intera? come lo puoi dire? è una persona che conosci già nel momento in cui l'ho conosciuto io avevo 27 anni quando ho conosciuto Franco era già un genio riconosciuto in tutto il mondo e quindi era una persona di una semplicità disarmante e di una disponibilità tale che proprio il libro e la prefazione a cui facevo il riferimento nasce dal fatto che io gli ho detto un giorno mentre lui mi aveva chiamato per chiedermi un consiglio di cinema perché era così umile che voleva farmi vedere un montato che aveva fatto di un altro film dove io non c'ero perché ho fatto il suo primo film alla fine di questa cosa mi ha ringraziato tantissimo se sei stato qua e stato troppo gentile sono andato fino a Cinecittà e io ho detto ma se io ti do un libro tu te lo leggi e lui mi ha detto sì non solo se l'hai letto mi ha telefonato il 24 di dicembre mi ha fatto il regalo di Natale più bello e mi ha detto ma lo pubblichi e gli ha detto non lo so se qualcuno mi aiuta e lui lo fece leggere Elisabetta Sgarbi e lo pubblico a buon piano. Com'è Federica lavorare con Nemi Bruschetta scrittore, attore literato di cinema, comico, drammatico. Soprattutto noioso. Mi addoio sempre, non recita mai niente nei momenti di pausa lui ci recita tutti i suoi mille spettacoli, mille film. Perché è un attore a tutto tondo, li ha fatti tutti, tutti i tipi di film, tutti i tipi di spettacoli, teatrali, ogni genere. Infatti la battuta che mi piace più fare è che non sono un attore. Ecco, continuo a sostenere che non è un attore perché fa l'attore da poco tempo no? No, non sono un attore perché ho fatto l'attore al cinema, in televisione per caso e perché ho fatto il regista di teatro per 40 anni e poi a un certo punto follemente stimolato da varie persone sono salito sul palco e quindi questo è il mio quarto spettacolo da attore. Sono come un appena uscito dall'Accademia. Comunque scherzi a parte per me è un grande onore e io sono felicissima di fare questo spettacolo anche perché recitare con i colleghi bravi per sempre piacere sempre aiuta molto, diciamo. Questo lo dice solo nelle interviste, a me dice che è. Va bene, per forza, ci vuole. Comunque ci avete incuriosito, veniamo a vedere questa pandemia che non fa male, insomma, che non è contagiosa. Anche per ridere e far riflettere. Grazie, grazie a voi.